E' bella ragazzi oggi siamo su Doors Beh Oggi scopriremo i finali No, visto che il mio amico qua lo sa per tutto Vediamo Vediamo se ci riusciamo a finirlo E... Niente, tra gli arderò Ok Ok, devo alzare il volume perché sennò si arriva l'ambush Non sento rumore Che viene da alzare Allora Ho il dubbio Se mi parte schiccio madonna io mi cazzo Se parte schiccio io mi cazzo E' impossibile da schivare una volta e ci sono riuscito a schivare l'attacco Oh, della madonna quella Che invece mi sono messo Io tra i yardo Perché Sino qua Sì, però io sto perdendo tempo qua La registrazione se no è troppo lunga Non me lo fa caricare se è troppo lunga Ok, l'ha trovata Vai, vai Non è tornato indietro Non è tornato indietro Goku Che sei? Non lo sa E poi Non è tornato indietro Grazie. Sì, vabbè, ve lo dicevo stai. Sì, vabbè. 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 Sì, vabbè.